Allora Pietro se no fallo di fianco a destra e dopo la imbuchi qua La fai a destra e dopo entri La fai a destra e dopo La fai a destra e poi salti dentro qua e sei sua No lì non c'è più niente Dopo è tutta discesa Devi andare su a manettone Dai 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 Ma smettile di cazzate Ti ho detto vai su là Ma vai su là e poi la imbuchi a metà e passi fuori Grazie a tutti Grazie a tutti Ma che è al campo? Scusa vai lì a come si chiama alla Tana della Volpe Fermati lì che arriviamo Alla Tana della Volpe Giù sotto i sassi dove c'è il motorino abbandonato Eh ci vediamo di sotto Tanto due minuti siamo lì Alla Tana della Volpe